ciao a tutti sono federico di garden center florio ci troviamo qui a pesero in via lombardia zona via toscana e sicuramente non può mancare un bel albero addobbato come questo e oltre ai colori classici quali il rosso il già il loro il bianco o l'argento vi posso consigliare un grande trend di quest'anno che sicuramente rosa e vi consiglio l'abbinamento con un albero innevato in modo da fare spiccare meglio i colori e possiamo anche questi abbinarli con il nero altra novità di quest'anno l'abbinamento insieme è molto bello e ve lo consiglio inoltre oltre un bel albero addobbato possiamo abbinarci una lanterna come questa artigianale vengono lavorate proprio da mio padre all'interno e in questo caso abbiamo un bel angelo con delle lucine e delle palline sempre rosa ma lancio anche questo servizio che abbiamo deciso di fare quest'anno se avete anche a casa delle lanterne vecchie che non utilizzate potete portarcele e noi le lavoriamo completamente personalizzandole quindi scegliamo insieme gli articoli da metterci all'interno e poi noi le andremo a comporre tutti i weekend avremo babbo natale nella sua casetta che vi aspetterà per portargli la letterina e per fare una foto insieme a tutti i bambini avremo due fantastici pony pronti ad essere accarezzati tanti piccoli animaletti con i quali giocare e poi un presepe con figure personaggi e grandezza naturale che al buio è veramente bellissimo vi consiglio di venirlo a vedere e poi il nostro showroom natalizio con alberi palline decorazioni angeli elfi lanterne tutto quello che riguarda l'abbinamento e la decorazione della vostra casa balcone e al vostro giardino vi aspetto tutti i weekend siamo aperti dalle 8 alle 12 e 30 nel pomeriggio dalle 15 alle 19 e 30 ci sarà anche babbo natale